ha ammazzato una partita l'ha ammazzata l'ha ammazzata dopo 18 minuti un'ingiustizia atalanta real madrid una parola per riassumerla ingiustizia ha ammazzato la partita ha ammazzato uno spettacolo garantito stasera mi volevo divertì mi ha fatto vedere una partita di cacca una partita di cacca dove comunque sono immerse delle cose sì anche interessante per carità bello vedere un atalanta che è capace anche di soffrire capace anche di tenere botta ma ragazzi che ingiustizia mamma mia mamma mia voglio essere magnanimo e dire soltanto che stila sia scarso voglio dire solo che è scarso perché si potrebbero dire le peggio cose analizzando un po come come è stata indirizzata e come è stata condotta perché un conto è indirizzarla ma anche condurla proprio di male in peggio di male in peggio e mi limito a dire che è scarso tutto tutto qua perché può capitare ci sono i giocatori ci sono gli allenatori ci sono gli arbitri scarsi ci sono quelli forti e mi voglio limitare per non per non andare adito altre polemiche poi magari più più aspre peccato peccato perché come ho detto stasera poteva poteva essere spettacolo l'atalanta se la sarebbe giocata penso penso che sia chiaro e dopo i 93 minuti penso che sia chiaro che l'atalanta stasera se la sarebbe giocata e anche alla pari e anche alla pari perché poi trevisani adani reale 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 sì ho capito sfruttiamo il blasone il nome del reale reale che fa sempre scena assolutamente per carità di dio anche perché poi a centrocampo casemiro cross e modric ragazzi possono portare possono portare tutti un po a scuola ecco ci conducono per mani ci portano tra i banchi per carità di dio ragazzi levati qui levati quei tre il reale è in piena emergenza e questa atalanta con questa applicazione con l'applicazione che ci ha messo stasera con la con anche la capacità di saper soffrire perché stasera l'atalanta ha fatto una partita che non gli è proprio non 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 gli è proprio nel dna eppure l'ha fatta bene quindi figuratevi un po se stasera l'atalanta poteva fare la sua gara che succedeva figuratevi un po cosa sarebbe potuto accadere che peccato non lo potrebbe non lo scopriamo non possiamo scoprire perché perché è andata come è andata e che e questo mi dispiace questo mi dispiace poi normale giocando tutta una partita con l'inferiorità in numerica qualcosa è concesso e si è concesso e poi dalle 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 arriva arriva il gol di 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 mendi che tra l'altro è stato il migliore è stato quello che anche nel primo tempo ha dato molto molto filo filo da torcere l'azione che ha portato l'espulsione è stata una bella azione tutto per carità di dio assolutamente non togliamo i meriti del real ma ragazzi è inutile 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 dire inutile fare peccato 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 perché 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 l'ho detto poco fa perché perché l'atalanta se la sarebbe se la sarebbe giocata questa partita se la se la sarebbe giocata ciò non toglie comunque che molti giocatori escono non molti l'atalanta esce alla grandissima da da una sfida del genere con toloi gg gym city romero gossens lo stesso mela ha fatto una partita una partita strepitosa l'unico l'unico onestamente e ha fatto credo abbia fatto anche bene gasperino a togliere l'unico ilicici che ha mostrato un po di di non lo so strafotenza forse non era proprio indicato per per giocare una gara del genere ecco non lui non non ha non ha quelle caratteristiche ma non ha quella anche quella dote momentale mettiamolo così per per giocare una partita di di sofferenze forse non andava affatto proprio entrare col segno del poi molto 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 facile dirlo e per carità poi uno non lo mette dice perché non metti uno come ilicici che è capace di inventarti la giocata quindi è sempre facile sempre troppo semplice ovviamente dirlo dopo e ma levato levato questa piccola parentesi chiusa questa piccola parentesi peccato ecco peccato peccato davvero e ragazzi questo è vediamo vediamo al ritorno vediamo un pochettino al ritorno contro questa squadra qua l'Atalanta se la gioca contro questa squadra qua poi è ovvio che se un real anziché presentarsi con ugo duro con mariano e l'altro la l'altro giovane interessante entrato nel secondo tempo si presenta con benzema con ramos recupera pedini importanti poi ovvio ovvio che 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 non è più non è più non è più alla portata proprio per questo il ramarico è grande proprio per questo perché stasera c'erano delle difficoltà e sono sicuro che l'Atalanta quelle difficoltà le avrebbe sfruttate al meglio questo questo è un peccato veramente un peccato un peccato anzi un ingiustizio sinceramente va bene fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate leccate se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio